Andrea Zatti Andrea Zatti Andrea Zatti perché lei ha una sua trasmissione che si chiama Start and Stop, signore e signori, Chiara Perale! Buonasera, buonasera a tutti! Benvenuti alla finale di Pistrino del Brenta, io ringrazio Renato che ogni volta spendo delle parole meravigliose, grazie Renato davvero perché ormai siamo in famiglia, quindi per me è un grandissimo piacere e anche un'emozione essere qui questa sera perché finalmente andremo a scoprire chi si aggiudica il titolo di Miss Riviera del Brenta quest'anno. Ma fatemi ovviamente salutare e ringraziare il comune di Pianiga perché ovviamente ci ospita in questo teatro, quindi grazie, un applauso al comune di Pianiga che ci ha appoggiato e questa sera ospita la bellezza, la bellezza di queste 14 ragazze, le 14 finaliste che appunto si contenderanno il titolo di Miss Riviera del Brenta. ed è un orgoglio per noi dire che abbiamo il patrocinio della Regione Veneto, quindi un applauso perché non è solo di bellezza delle ragazze che parliamo, ma è della bellezza del nostro territorio. I grandi tesori che abbiamo nella nostra Regione del Brenta che sono stati promossi anche grazie a questo concorso, quindi l'appoggio della Regione Veneto per noi è un grandissimo orgoglio, quindi davvero grazie per questo sostegno. Sarà una serata emozionante, so che già Renato vi ha dato qualche anticipazione perché anche voi sarete protagonissimi, perché queste ragazze davvero sono molto emozionate, anche se hanno fatto vari vari step, varie serie per arrivare qui, però non ho bisogno del vostro appoggio, quindi mi raccomando, confido in voi, so che sarete un pubblico caloroso e caliente. Allora, iniziamo ovviamente facendo un passo indietro, spiegando un pochino anche quando inizia il percorso e l'esperienza di Ministri Rivela del Brenta. Ministri Rivela del Brenta nasce nel 2015, l'anno, lo ricordiamo ovviamente, del tornado che ha colpito la Rivela del Brenta, che ha colpito anche e soprattutto il comune di Pianiga e da lì però Renato Trincanato ha avuto questa idea, quella di riportare, se vogliamo, un po' di spensieratezza, di bellezza a questo territorio, dedicato appunto alla Rivela del Brenta, alle ragazze provenienti dalla provincia di Padova e di Venezia. Quindi da lì è iniziata l'esperienza di Ministri Rivela del Brenta. Ma dobbiamo ovviamente nominare e ringraziare anche gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa serata e quindi io ringrazio per la partecipazione a Veneta Flex, per la sicurezza, la Capinera, il ristorante e pizzeria che ha offerto le pizze e le messe allo staff, tra l'altro buonissime, l'ho assaggiata anche io, quindi buonissime, grazie alla Capinera che ci ha annunciato, dal dolce al salato, il panificio e la pasticceria anche qui per quanto riguarda il buffet dolce che andremo a dimostrare dopo, Dental Team, un partner ormai affezionato, Casello 11, Triangolo dell'Intimo, Autofficina MJ di Campagna Lupia, Chioreria di Villa Katia che appunto questa sera omaggia le ragazze e le miss che si contengono a questo titolo talmente importante che appunto Villa Katia questa sera ha voluto partecipare ancora, quindi la ringraziamo davvero. E infine Butterfly by Anna, anche qui avremo un bellissimo omaggio per inserire a Delretta. Ringraziamo e salutiamo ovviamente coloro che raggrupperanno le emozioni con degli scatti meravigliosi, Paolo Curesi e Marco Monetti, ciao ragazzi, che è piaciuto questo ragazzo? Ciao ragazzi, ciao ragazzi, tu sì ma no, entrambi, entrambi, siete lo spirito giovane, questo ci piace. Salutiamo lì in alto la nostra regia, ovviamente Andrea è il nostro DJ e poi meravigliosi ragazzi anche qui, eccoli lì, di GD Ferro Team che ovviamente seguiranno con un bellissimo video che poi verrà ovviamente ammontato quella che sono le emozioni di questa bellissima finale. E allora! Tra poco parleremo meglio ancora di questa regola del Brenta, di questo territorio meraviglioso, ma come vi dicevo, facciamo un passo indietro, iniziamo proprio dal 2015, perché nel 2015 è stata eletta la prima Miss di Mila del Brenta, la salutiamo, non è qui con me questa sera, però la salutiamo a Enarcisa Barbuta, e l'anno successivo invece nella splendida cornice di Villa Vimba, Amira, fu eletta la seconda Miss di Mila del Brenta. E lei è qui con noi, allora salutiamo con un applauso Giulia Zancato, Miss di Mila del Brenta 2016, ciao Giulia! Stavamo parlando nel retro del film, tu sei la seconda, però penso che dopo anche tutti questi anni sia ancora viva l'emozione che hai provato quella sera. Buonasera a tutti, sì, effettivamente come dici tu, l'emozione che mi ha rilasciato quella sera, bici, Miss di Mila del Brenta 2016, è stata pochissima, e la porto tuttora con me e ogni anno quando Renato mi invita alla finale sono sempre molto diretta di accettare l'invito. Ti ringraziamo quindi per essere qui con noi, rimani qui perché dopo di te, salutiamo anche loro perché non potevano essere qui questa sera, però ne salutiamo Elisa Bellocchi che è Miss di Mila del Brenta 2016-2018, Giorgia Perugini, Miss di Mila del Brenta 2019 e Beatrice Bassan, Miss di Mila del Brenta 2020. Appunto, questa sera non potevano essere qui per un momento di impegni, ma abbiamo ovviamente con lei che questa sera dovrà donare e lasciare il testimone, che testimone è la fascia di Miss di Mila del Brenta 2022, ma lei è Miss di Mila del Brenta 2021. Anita Basson! Ciao, bellissima anche questa sera! Allora, raccontaci un po' come è stata la tua emozione in quella sera, insomma, di un anno fa, e come ti senti anche questa sera di fronte a questo pubblico e di fronte a una possibile Miss di Mila del Brenta 2022. Buonasera a tutti, sono Anita Basson, Miss di Mila del Brenta 2021. Sono molto orgogliosa di aver potuto indossare la fascia e la corona, e è stata una bellissima esperienza per me, e ho potuto conoscere meglio il nostro territorio, come sono tante ragazze, e soprattutto non ho più la moda. Grazie tantissimo Renato Trincanato e tutto lo staff per le bellissime esperienze che auguro a tutte le ragazze, e sono un po' triste di lasciare la corona, ma auguro la prossima maschina del Brenta 2022 di passare tutto il passato io, perché è stato tutto bellissimo. Allora, l'augurio ovviamente per i colleghi che questa sera verrà fasciata, però il vostro percorso, insomma, è ancora molto lungo, perché siete giovanissime in trame, quindi avete questo titolo importante che porterete avanti per sempre. Grazie, grazie ragazzi, vi faccio accomodare nella nostra platea. E allora, prima di ovviamente presentarmi anche la giuria, perché saranno loro questa sera avere l'onere, ma anche l'onore di decretare il Miss Vila del Brenta 2022, le vogliamo vedere un po' tutti assieme in una carrellata veloce, così rompiamo anche un po' il ghiaccio, e allora io vi faccio qui a lato, facciamo un bel applauso alle 14 finaliste di Miss Vila del Brenta, 2022. Eccolo qui, le 14 ragazze! Da migliore, emozionante, vero? E questo sia pronto, perché in questa fascia è molto importante, e quindi si risentono pronti! Ok! E allora, allora, le abbiamo intanto così viste, così hanno un po' anche molto ghiaccio, buonasera, buonasera! Allora iniziamo con un grandissimo applauso per la prima finalista, la numero uno, Alessandra Lentino Stravolo! Alessandra Lentino Stravolo! Alessandra Lentino Stravolo! Alessandra Stravolo! Continuiamo con la numero due, Aurora Voltrico! Alessandra Stravolo! Alessandra Stravolo! Passiamo adesso al numero 3, Elena Convento. Il momento della numero 4, Giulia Spallano. Il momento della numero 4, Giulia Spallano. E partiamo alla numero 5, Valentina Nalesso. E ora arriva la numero 6, Ivana Maria Oggi. Il momento della numero 4, Giulia Spallano. E ora chiamiamo la numero 7, Veronica Pizzeri. E ora la numero 8, Giulia Piva. Continuiamo con la numero 9. Ciao. E ora arriva la numero 10, Carlotta Scarpa. Ciao. Continuiamo con la numero 6, Giulia Spallano. Ciao. 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 yo. Andiamo avanti con la nuova credicina Anna Rossi E continuiamo con la nuova credicina Sara Pricioni Grazie a tutti E grazie anche a Sara Pricioni Che conclude questa prima uscita in Bodiniero da gara Abbiamo un po' rotto il ghiaccio Ma poi le conosceremo anche meglio Perché vogliamo capire anche un po' di loro Cosa fanno nella vita, quali sono i loro hobby Ma loro sono già pronte Già pronte per la seconda uscita in abito elegante Quindi in questa uscita davvero tutta la loro bellezza L'eleganza, l'importamento di queste ragazze che ve lo ricordo Alcune sono davvero molto molto giovani E quindi veramente sono brave Perché mettersi in gioco con concorsi di questo tipo Di questo calibro non è semplice Quindi davvero un applauso va a tutte queste fantastiche ragazze Che hanno attraversato le varie tappe Le varie selezioni fino ad arrivare a questa sera Vado a vedere se sono pronte Ma penso di sì, sì, prontissime E allora ricominciamo con la numero uno Alessandra Lentino Stravolo Abbiamo visto anche in tutto la tua eleganza Tu sei giovanissima perché hai 15 anni Ti raccontaci un po' cosa fai nella vita E cosa ti piacerebbe fare da grande Vento una scuola professionale di grafica e marketing E da grande vorrei far parte del mondo della moda La scelata, comunque Come modella o come stilista? Come modella Come modella Beh, diciamo che la moda insomma ti piace Un po' a 360 gradi Beh, noi ti auguriamo di prendere questa strada Se è il tuo sogno Un applauso ad Alessandra Lentino Stravolo Grazie Alessandra Andiamo avanti con la numero due Aulorable Dream Buonasera Lentino Stravolo Questa è la stessa scuola Cosa fai tu nella vita? E cosa hai sempre fatto? E' una biologa? Ah, nel mondo della moda diciamo Ti sei avvicinata adesso? Sì, al mondo della moda mi sono emozionata quest'estate Ti piace? Sì Allora, viviti intanto questa esperienza E poi insomma quello che sarà sarà Ma sei il sogno di diventare biologo Insomma, è una bellissima carriera Quindi un applauso anche per la numero due Aurora Coltrino E passiamo alla numero tre Elena Convento Ciao a tutti Veri qui di rosso vestito anche tu 15 anni, sei giovanissima e vieni da Campolongo Maggiore raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita? nella vita studio ragioneria e vado in palestra e cosa ti piacerebbe fare da grande? diventare imprenditrice in che settore, in che campo? cioè di economia ah ok, quindi insomma i numeri ti piacciono? sì bene, una futura economa, grazie allora, grazie mille in bocca al lupo intanto per questa sera grazie Adelina e continuiamo con la numero 4, lei è Giulia Ballano grazie a tutti ciao Giulia allora Giulia, tu è elegantissima raccontaci un po' 16 anni, vieni da Pianica cosa fai nella vita e cosa ti piacerebbe fare da grande? qual è il tuo sogno nel cassetto? la vita, studio un istituto professionale di farrucchiera e da grande, mi piace proprio una storia di bellezza che bello, beh insomma, comunque ti piace legato al mondo un po' della bellezza e della moda questa è la prima esperienza che hai fatto con il ministro di Veda e Brenta? sì, è il primo anno che ho iniziato quest'anno a fare sfidate ti piace questo mondo? sì, mi piace bene, allora divertiti anche in questo mondo perché è importante divertirti perché sei giovanissima e in bocca al lupo anche per questa sera ovviamente grazie Giulia noi continuiamo con la numero 5, Valentina e Annalissi ecco la prima ventina, andiamo in mezzo così allora Valentina, 22 anni, vieni da Caselle cosa fai nella vita? come calzatore d'orificio ah ok, qui? in Rivela del Brenta, dove? astra cosa ti piacerebbe fare da grande? è questo il tuo futuro? diventare una modella ah, diventare una modella pensavo volessi continuare a lavorare nel calzatore d'orificio beh, insomma, anche quello comunque è un bellissimo lavoro e modella, dove? ti piacerebbe viaggiare? cosa ti piacerebbe fare? viaggiare in giro per il mondo in giro per il mondo a Parigi, magari a New York magari beh, magari parte proprio da qui chi lo sa chi lo sa come andrà e allora facciamo un grande in bocca al lupo e un grande applauso a Valentina Navesso e continuiamo con la numero 6 Vanna Maria Pagini buona sera! i vanna! buona sera! i vanna! buona sera! i vanna! i vanna! raccontaci un po' di te hai 18 anni 19 hai ragione la patente? sì cosa ti manca? la pratica? praticamente la pratica praticamente la pratica giusto che macchina ti piacerebbe avere poi? quella che c'è al momento ci sia contente diciamo mettiamola così da brava! umiltà prima di tutto brava sta ragazza allora Ivanna cosa fai nella vita? allora mi sono appena diplomata appena ho fatto la maturità in biotecnologia e ho dato un esatto io ah! e quando saprai questo è un esempio gli inizi aggiornati eh perché vogliamo sapere beh quindi ti piacerebbe veramente per grande diventare un neocchio lungo attenzione attenzione abbiamo una ragazza bella anche con una bella testa potremmo dire eh eh fortunatamente sì lo studio è sempre stata con nessuno quindi saranno contenti mamma e papà? anche troppo forse allora noi intanto ti facciamo il buon collupo per questa sera grazie Aivana Maria Magin andiamo avanti con la numero 7 Veronica Pinteri e e e e e e e e e che è un'idea giovanissima ti piace la moda giusto? cosa ti piace la moda giusto? quindi ti piacciono gli animali aiutare gli animali adesso invece cosa studi? frequento liceo scientifico ok quindi comunque hai intenzione di scriverti all'università comunque quando ovviamente finirai ai superiori e la moda invece come è arrivata? in questo e 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 quindi pensi rimarrà quello brava guarda allora noi te la auguriamo perché in qualsiasi città insomma se è quello che vuoi fare da grande ti auguriamo di poter diventare una brava e importante che rimane un applauso ancora per Veronica Pinteri e continuiamo adesso con la numero 8 Gaia Viva buona sera buona sera allora raccontaci un po' di cosa fai nella vita nel tempo libero qual è il tuo sogno nel cassero frequento il socio sanitario a mezza e come lavoro in mezzo fino ancora ho fatto questi ultimi due anni di scuola per le mie cilie e e oltre a studiare cosa fai? mi piace fare le sfilate oppure riuscire in città per la vigilia e non uscire a continuare bene allora intanto una bocca al lupo per questa sera e che tu non possa andare a casa con una bella fascia facciamo un applauso a Gaia Viva numero 8 e continuiamo adesso con queste note spagnoleggianti con la numero 9 Michele Gupi grazie Grazie a tutti. Eccoci qui con Michelle. Ciao Michelle, 17 anni, un amicoologo maggiore. Allora, raccontaci un po' di te. Carta mia, vai. Buonasera a tutti. Allora, al momento, studio operativo tecnico nel settore turistico. E mi sono nelle casette quello di diventare un interior design. Ah, quindi arredamento di interni. Anche qui, insomma, un bel percorso lungo, una laurea, tanti studi. E la moda? Quando è arrivata? La moda è arrivata l'anno scorso. Fatalità con questo concorso. Ah, vedi un po'. E chissà questa sera cosa succederà a cara Michelle. Se ti dovessi portare a casa la fascia di Mr. Vila del Breit 2022? Veramente mi impegnerei al massimo perché ci tengo e sono qui apposta per ottenere questo risultato. Per onorare anche la fascia. E allora in bocca al lupo a Michelle. Grazie Michelle. E in bocca al lupo anche però per il tuo percorso di studi. E le grandissime queste ragazze questa sera. E vediamo, vediamo com'è la numero 10, Carlotta Scarpa. Buonasera Carlotta. Ciao. Ciao. Tutto bene? Raccontaci di te Carlotta, cosa fai nella vita? Io sono professore in testa di Diceo Linguist. E studio tedesco, spagnolo e inglese. E le studi perché vuoi andare all'estero? Sì, mi piace molto viaggiare e per questo vorrei diventare un hostess di volo. Ah, un hostess di volo ragazzi. Attenzione, ci sarebbe anche tanto bisogno. Però ti ci vogliono ancora un po' di anni. Ci auguriamo che tu possa raggiungere presto questo obiettivo. E invece come è arrivato al mondo della moda? Quando iniziamo? Anni fa tu me l'ho partecipato al primo concorso e poi mi sono appassionata sempre di più. Quindi io ho molti modi. E allora in bocca al lupo per questa sera ma in bocca al lupo anche che tu non possa volare al più presto dove sono i tuoi sogni. Quindi grazie Carlotta. Futuro hostess di volo. E andiamo avanti con la numero 11, Beatrice Tomana. E andiamo avanti con la numero 11, Beatrice Tomana. Beatrice, ciao Beatrice, come stai? Bene, grazie. Un po' accadata, sì. Devo dire che siamo a metà settembre ma questo caldo non ci abbandona. Ci lamenteremo col freddo, quindi ci lamentiamo sempre. Allora Beatrice, la parteciata di te? Tu hai 22 anni. Cosa fai la vita? Studio lettere moderne. È il mio terzo anno di triennale. Ho dato quasi i miei ultimi strumenti qua a settembre. In teoria, mi lavoro. In teoria, mi lavoro. Quando dovresti in teoria lavorare? Marte 2023. Beh dai insomma, tempo di preparare la tesina. Sai già su cosa vorresti prepararla? L'argomento riguarda il mondo magico, nel medioevo, in particolare nei manoscritti. Ma tu ti senti un po', Maga? Sì, un pochino. Un pochino. E quindi, nel tuo futuro, qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, l'idea principale è di insegnare all'estero. Visto gli ultimi anni, mi sono molto appassionata a manoscritti e codici, quindi sarebbe anche aperta l'opzione di studiare sul di campo, proprio. Che bello! Bellissimo! Penso, guarda, credimi, penso sia la prima volta che ho sentito una ragazza ai concorsi studiare. Comunque mi piace questa materia molto particolare. Quindi complimenti, complimenti davvero. In bocca al lupo. In bocca al lupo anche per questa sera. Grazie, Metrice. Metrice Tomana, la numero 11. Quante cose scopriamo da queste ragazze. Adesso per arrivare al numero 12, Alessia Visentini. Alessia Visentini. Ciao Alessia. Allora, 17 anni. 18, ho detto, quando li hai compiuti. Buonasera a tutti. Quando li hai compiuti? 5 luglio. Ah, 5 luglio. Beh, insomma, dai, quindi dobbiamo aggiornare, ma ci stiamo, insomma. Hai ragione, scusami. Hai passato la maggiorità, ci tieni ed è giusto. Quindi facciamone un applauso per questi 18 anni desiderati. Come li hai festeggiati? Li ho festeggiati insieme ai miei amici in un po' di sale. Ho fatto qualcosa di semplice. Ho festeggiato in grande per diversificare le altre persone che mi fanno molto in grande. Quindi l'oprofile, c'è una cosa molto semplice. Benissimo. Allora, passiamo però a cose, insomma, più sostanziose. Cosa fai nella vita? Qual è il tuo stato nel cassetto? Lunedì inizierò il quinto anno del liceo delle scienze umane e nella vita mi piacerebbe diventare un host estivolo e lavorare nel mondo della moda. Ah, quindi insieme a Carlotta? Sì. Beh, beh, vi trovate magari nella stessa compagnia, eh, chi lo sa, chi lo sa. Ma dove ti piacerebbe andare come compagnia? Non so, Ryanair, Dubai? Ryanair. Ryanair, vabbè, quindi c'è un po', insomma, Europa, anche un po', Italia, moltissimo. Allora, noi ti facciamo un rimbocca al lupo, che è ovviamente per i tuoi sogni, e un rimbocca al lupo per questa sera, eh, che magari anche tu potresti portare a casa una bella fascia, e forse anche quella di prima classificata. Un applauso ad Alessia Visentini che ha 18 anni. 18. Continuiamo adesso con la numero 13, Anna Rossi. Continuiamo adesso con la numero 13, Anna Rossi. Anna! Ciao, Anna, benvenuta! Buonissima! Ma tu hai 17 anni? Hai 17 anni, quando compi 18? Il 30 dicembre. Quindi, insomma, devi studarla ancora un pochino, eh, questi 18 anni. Senti, raccontaci un po', cosa fai nella vita? Allora, io studio al liceo classico, e nel mio tempo libero suono il pianoforte e recito. Ah, quindi recitazione! Sì. Che piacerebbe fare? Allora, il mondo della presentazione mi affascina molto, però è anche molto tosto, puoi confermare. E, però, diciamo, il mio, diciamo, la mia aspirazione è il cinema, perché comunque sono un'appassionata di film, sono un'appassionata di regia. E mi piacerebbe molto, diciamo, specializzarmi in quel campo. Quindi, insomma, potrebbe essere la scelta, dopo il liceo, quella di una scuola specializzata, proprio nel teatro, recitazione. Beh, io mi tengo aperte tutte le possibilità. Brava! È l'importante, soprattutto, di questi tempi, guarda, aprirsi, tenersi aperte tutte le porte, è la soluzione migliore. Va bene, Anna, allora, ti facciamo un grosso, un grosso, un grosso no, un grosso in bocca al lupo, per Anna Rossi. La nostra numero tredici! E concludiamo con la numero quattordici, Sara Piccione. E' elegantissima anche Sara! Dove te ne vai? Sara! Allora, Sara, 19 anni, di Lidadolo, raccontaci un po' cosa fai nella vita. Allora, buonasera a tutti. Nella vita sono un'operatrice del benessere e il mio sogno di cassetta è quello di continuare nel mondo della TV e di continuare gli studi che sono molto importanti. Quindi, quali studi vorresti fare? Allora, adesso farò marketing pubblicitario, però mi piacerebbe anche imparare un po' psicologia. Ah, ok. Ma e nella televisione, invece, cosa ti piacerebbe fare? Allora, io ho fatto i reality su Rai2, che è il collegio, e mi piacerebbe continuare per reality, film per Netflix, quindi speriamo che li incrociamo le dita. Beh, incrociamo le dita anche per te, facci sapere, eh, che noi ci sintonizziamo tutti! Quanti? Quanti hanno Netflix? Io ce l'ho, quindi dillo a me, dillo alla zia qua, che dopo io ti guardo, eh? Grazie allora, in bocca al lupo! Grazie anche a Sara Piccione! E ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per questa finale. Allora! Giuria, 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 li vedo belli presi qui, eh, dalle votazioni, perché, come vi dicevo, adesso la giuria si può radunare, insomma, fare, tirare le somme, come si suol dire, perché il concorso per le ragazze possiamo dire che è finito qui, perché adesso loro si rilassano e scopriremo alla fine, ovviamente, chi si aggiudica il titolo quest'anno di Miss Rivera del Brenta. Ma daremo anche altre fasce importanti, quindi, insomma, alcuni di loro questa sera andranno a casa con anche dei premi veramente, veramente belli. Allora, siamo pronti adesso per le premiazioni, quindi le chiamiamo e invochiamo con un grande applauso le 14 Miss finaliste di Miss Riviera del Brenta 2022! Applausi! Applausi! Eccole qui, le nostre 14, bellissime ragazze! Allora, allora, e allora iniziamo dalla quinta classificata Miss Fotogenia! Allora, premiamo entrambi, due fotografi, entrambi? Entrambi! Prego Paolo Pulese e Marco Monetti! Bravissima, avendo sempre parato! Miss Fotogenia! Ricevi un premio! Uno shooting offerto da Marco Monetti, un po' dei prodotti di bellezza! Miss Fotogenia è... Alessia Vintina! Abbavissima! Grazie Paolo, grazie aiutante, fotografo che si chiama. Iva, grazie Iva per la foto. Allora aspettiamo che adesso ricopriamo le macchine di fotografiche. Intanto andiamo con Miss Sorriso. Miss Sorriso a premiare Damiano Beltrame. E anche l'assessore. E anche l'assessore, allora perfetto. Uno con la fascia e l'altro col premio. Damiano Beltrame. Insieme all'assessore, premio la quarta classificata Miss Sorriso. E mi c'è un premio, si premia una bella igiene corale. Più anche uno sbiancamento. Da parte di Derita Alcina che ringraziamo è usciuto l'offerta da Paolo Pulizio. Allora, Miss Sorriso. E... Non lo scampo! Allora! una bella foto grazie grazie complimenti Carlotta Miss Sorriso L'idea del Bresa 2022 un applauso quindi la potete cambia? si la cambia allora Miss Eleganza L'idea del Bresa 2022 terza classificata Miss Eleganza è Anna Rossi complimenti ad Anna complimenti e grazie ancora Miss Serenissima L'idea del Brenta seconda classificata riceve uno shooting offerto da Paolo Purese più un premio offerto da Butterfly come abbiamo parlato prima le creazioni artigianali di accessori tutti personalizzati Miss Serenissima L'idea del Brenta 2022 è Michel Guppi ecco sì consigliere giusto consigliere non vorrei mai promuoverla sul campo e allora la prima classificata Miss Riviera del Brent 2022 riceve un viaggio per due offerto da Casallo 1, l'agenzia di viaggi di Calcroci uno shooting pubblicitario per Butterfly e ovviamente il bouquet offerto da Fioreria Villa Catia siamo arrivate quattordici sarà piccione ma facciamo un applauso anche a tutte le ragazze le finaliste siete state bravissime e bellissime davvero grazie e complimenti a una di voi Sara fatti vedere vieni a fare una eccola qui facciamo vedere ancora una volta la meravigliosa la meravigliosa 2030 2022 Sara piccione complimenti cosa ha Paolo ma cosa stai qui stai qui perché se no non mi dorme stanotte che deve farti la foto poi vi taglio le ragazze non fasciate non vanno via voglio una bella foto di gruppo di tutte quante e poi le fasciate che hanno il rituale di foto da fare per le premiazioni domani tutte le foto le troverete su Mr. Riviera del Brenta tutte le parole non dormi questa notte hai capito? loro lavoreranno tutta stanotte tutta stanotte esatto sulla pagina facebook di Mr. Riviera del Brenta poi su Instagram poi nel nostro sito e poi benvenuta all'ottava Mr. Riviera del Brenta Sara piccione Sara piccione grazie a tutti voi grazie grazie davvero grazie a tutti voi andate a mangiare qualcosa e grazie ancora grazie a tutti grazie amici di GD Parro Team grazie a Renato Trincanato e grazie a Mr. Riviera del Brenta grazie a voi per essere stati con noi buonanotte bis rifacciamo tutto da campo ragazzi a cambiarsi forza grazie davvero grazie assessore grazie alla vostra giornata